Cosa succede quando due marchi iconici si scontrano? Preparati per una fusione di moda! Immagina un mondo dove il classico incontra il contemporaneo, dove la semplicità si fonde con l'eleganza. Gap, il nome sinonimo di stile americano classico, ha fatto squadra con Cult Gaia, il marchio noto per i suoi design ispirati alla natura. Gap, con la sua lunga storia di abbigliamento casual e confortevole, e Cult Gaia, con la sua estetica unica e sofisticata, stanno creando qualcosa di veramente speciale. Questa emozionante collaborazione riunisce il meglio di entrambi i mondi. Gli essenziali senza sforzo di gap e il tocco di eleganza tipico di Cult Gaia. Immagina di indossare un capo che combina la praticità quotidiana con dettagli artistici e raffinati. Pensa a capi indossabili con dettagli unici, perfetti per l'abbigliamento quotidiano o per le occasioni speciali. Ogni pezzo della collezione è pensato per essere versatile, permettendoti di passare facilmente dal giorno alla notte con stile. Curioso di vedere cosa succede quando queste due potenze uniscono le forze? Continua a leggere. Scopri come questa collaborazione sta ridefinendo il concetto di moda, portando una ventata di freschezza e innovazione nel tuo guardaroba. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa rivoluzione stilistica. Gap, un'eredità di capi essenziali, reimmaginati. Da decenni, Gap è sinonimo di qualità e stile accessibile. Ogni capo racconta una storia di innovazione e tradizione. Conosciamo e amiamo tutti Gap. I loro jeans, iconici, non sono solo un capo d'abbigliamento, ma un simbolo di comfort e versatilità. Dai modelli classici a quelli più moderni, i jeans Gap si adattano a ogni occasione. Le loro magliette? Capi base del guardaroba. Ogni t-shirt è pensata per essere abbinata facilmente, offrendo infinite possibilità di stile. Che tu stia cercando un look casual o qualcosa di più raffinato, le magliette Gap sono sempre la scelta giusta. Per decenni, Gap è stato un punto di riferimento per i capi basici di qualità che resistono alla prova del tempo. Le loro campagne pubblicitarie hanno definito generazioni e i loro negozi sono diventati luoghi iconici per gli amanti della moda. Ma Gap è molto più che semplici capi base. È un marchio che ispira creatività e individualità. Le persone amano mescolare i capi Gap con pezzi alla moda, creando look unici e personali. Si tratta di creare abiti che ti facciano sentire bene, dentro e fuori. Ogni capo è progettato per offrire comfort e stile, permettendoti di esprimere la tua personalità con fiducia. Abiti comodi, eleganti e accessibili a tutti. Gap celebra la diversità e l'inclusività, offrendo capi che si adattano a ogni corpo e stile di vita. Ogni giorno, milioni di persone scelgono Gap per sentirsi a proprio agio e alla moda. Con questa collaborazione, Gap porta il suo impegno per i capi essenziali quotidiani a un nuovo livello, infondendoli con l'estetica distintiva di Colt Gaia. Questa partnership rappresenta l'incontro perfetto tra funzionalità e design, offrendo capi che sono sia pratici che alla moda. Gap continua a evolversi, rimanendo fedele alle sue radici mentre abbraccia nuove tendenze e elaborazioni innovative. Colt Gaia, dove la natura ispira lo stile. Colt Gaia significa abbracciare la bellezza del mondo naturale. Fondato da Jasmine Larian, il marchio è noto per le sue borse scultoree, i gioielli vistosi e l'abbigliamento elegante e disinvolto. I design di Colt Gaia sono ispirati all'arte, all'architettura e alla forma femminile. Si tratta di fare una dichiarazione, pur rimanendo fedeli a un senso di raffinatezza disinvolta. Con questa collaborazione, Colt Gaia porta la sua sensibilità progettuale unica ai pezzi classici di Gap, creando una collezione che è sia elegante che indossabile. Sogni di denim un must della collaborazione. Il denim è al centro della scena in questa collezione, come ci si potrebbe aspettare da una collaborazione con Gap. Ma questo non è il tuo denim medio. Pensa alle classiche silhouette Gap arricchite dai dettagli distintivi di Colt Gaia. Stiamo parlando di jeans a gamba larga con cuciture intricate, giacche di jeans con abbellimenti unici e abiti di jeans fluidi perfetti per ogni occasione. Ogni capo è realizzato in denim di alta qualità, resistente e confortevole. Sezione 5. Tessuti fluidi e tonalità della terra, abbracciando l'estetica Colt Gaia. Oltre al denim, la collezione presenta una gamma di capi in tessuti fluidi e tonalità della terra. Pensa ad abiti di lino freschi, camicette di cotone con delicati ricami e pantaloni a gamba larga in una tavolozza di caldi neutri. Questi pezzi sono perfetti per creare look eleganti e disinvolti, che passano facilmente dal giorno alla notte. Che tu ti stia vestendo elegante o casual, la collezione offre una gamma di opzioni per soddisfare il tuo stile personale. Sezione 6. Accessori che elevano. Aggiungere un tocco di Gaia al tuo look. Nessun outfit è completo senza gli accessori perfetti e la collezione Gap X Colt Gaia non delude. Dagli orecchini vistosi alle borse intrecciate, gli accessori sono progettati per completare l'abbigliamento e aggiungere un tocco di Gaia al tuo look. La collezione presenta le forme scultoree e i materiali naturali tipici di Colt Gaia, tutti realizzati con la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità per cui il marchio è noto. Sezione 7. Un incontro fatto nel paradiso dello stile. La praticità di Gap incontra l'arte di Colt Gaia. Questa collaborazione è un incontro fatto nel paradiso dello stile, che fonde la praticità di Gap con l'arte di Colt Gaia. Il risultato è una collezione che è sia indossabile che elegante, perfetta per la donna moderna che li desidera entrambi. Ogni capo è progettato per essere allo stesso tempo alla moda e funzionale, con un'attenzione particolare alla qualità, al comfort e alla versatilità. Che tu stia sbrigando con missioni o uscendo per una serata in città, la collezione Gap X Colt Gaia ha qualcosa per te. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, dai tessuti di alta qualità ai disegni innovativi. I designer di entrambe le case di moda hanno lavorato fianco a fianco per creare una linea che rappresenta il meglio di entrambi i mondi. La collezione è pensata per essere versatile, adatta a diverse occasioni, dal casual al formale. Puoi facilmente mixare e abbinare i capi per creare look unici e personalizzati. Ogni pezzo è progettato per farti sentire sicura e alla moda, indipendentemente dall'occasione. La collezione include anche accessori, scarpe e borse, tutti pensati per completare il tuo look. La collezione Gap X Colt Gaia è inclusiva, pensata per donne di tutte le età e stili. Unendo la praticità di Gap con l'arte di Colt Gaia, questa collezione rappresenta una nuova era della moda. Scopri la collezione Gap X Colt Gaia e trova il tuo stile perfetto. Sezione 8 più che semplici abiti. Una visione condivisa di fiducia ed empowerment. Oltre agli abiti, la collaborazione Gap X Colt Gaia rappresenta una visione condivisa di fiducia ed empowerment. Entrambi i marchi credono nella creazione di capi che facciano sentire le donne bene con se stesse, dentro e fuori. La collezione è pensata per donne sicure di sé, eleganti e che non hanno paura di esprimersi attraverso l'abbigliamento. Sezione 9. Pronta a tuffarti nel mondo Gap X Colt Gaia? La collezione Gap X Colt Gaia è ora disponibile online e in negozi selezionati. Non perdere questa emozionante collaborazione. Recati nel negozio Gap più vicino, o visita il loro sito web per esplorare l'intera collezione e trovare i tuoi nuovi pezzi preferiti. Sezione 10. Condividi l'entusiasmo. Cosa ti colpisce? Cosa ne pensi della collaborazione Gap X Colt Gaia? Quali sono i pezzi che ti entusiasmano di più? Condividi i tuoi pensieri e la tua ispirazione di stile sui social media utilizzando l'hashtag o Gap X Colt Gaia. Non vediamo l'ora di vedere come abbini i tuoi pezzi preferiti? Sezione 11. Resta sintonizzata per altre avventure di stile. Questo è solo l'inizio del viaggio Gap X Colt Gaia. Resta sintonizzata per altre emozionanti collaborazioni e avventure di stile.